Amici di Cellulare Magazine, bentornati su nostro canale YouTube, io sono Luca Figgini e sono a Londra. Sono a Londra perché sono stato invitato in maniera quasi esclusiva per l'Italia ad assistere al lancio del nuovo smartphone di BlackBerry che è questo che vedete qui in questo momento, il BlackBerry Passport. In realtà in America si è già visto, si sanno già alcune caratteristiche, anzi pressoché quasi tutte le caratteristiche. Qui a Londra è stato un po' il lancio europeo, è stato un evento molto importante per BlackBerry e i partecipanti hanno potuto provare a toccare con mano il nuovo nato di Casa BlackBerry che come design dobbiamo mettere che è coraggioso, originale e coraggioso. Diciamo che questi due elementi contraddistinguono questo smartphone che propone quantomeno un concetto nuovo quindi non è il solito smartphone rettangolare, insomma il parallelepipedo ma propone un design un po' diverso con questo display da 4,5 pollici che è quadrato, non rettangolare, quindi in formato 4,3 sembra molto più grande rispetto e di fatto è molto più grande rispetto a un display di pari diagonale però in formato 16,9 basta confortarlo con l'S5 che oltretutto è una diagonale leggermente superiore perché è circa 5 pollici, ecco, più di 5 pollici per la verità scusate ecco, il 4,5 pollici in formato quadrato offre soprattutto nella parte laterale molta più area di visualizzazione che poi è tutto a vantaggio della visualizzazione dei documenti, delle mail della gestione dell'attività produttiva che come vedremo in seguito vi farò notare la differenza in termini di area di visualizzazione utile. Formato nuovo dicevamo, nuovo perché oltre al display da 4,5 pollici c'è la tastiera QWERTY classica tastiera estesa che oltretutto è sensibile al tocco quindi se io la utilizzo per esempio nella mail la tastiera mi permette di essere un surrogato di fatto dello scroll col touchscreen oppure funziona perfettamente anche col browser quindi quando io vado a navigare all'interno delle pagine e la carico la pagina posso spostarmi nella lettura utilizzando, in questo caso sto ancora caricando la pagina però utilizzando la tastiera. Vedete già che per spostarmi all'interno del menu del nuovo sistema operativo, altra novità di Passport è il sistema operativo BlackBerry OS 10.3 ecco per spostarmi all'interno di questi menu uso delle gesture le gesture che abbiamo già visto nelle release precedenti di BlackBerry OS X ma che nel 10.3 acquisiscono un nuovo livello di perfezionamento e ci sono una serie di novità, la più evidente, non la dico subito perché l'avete già scoperta le icone, le icone sono disegnate in modo diverso, sono flat, sono più moderne e sono insomma più trendy in qualche modo rimane da svelare a questo punto perché si chiama BlackBerry Passport ecco si chiama BlackBerry Passport perché notate un po' la magia è grande quanto un passaporto lunghezza e larghezza e altezza sono esattamente quelle di un passaporto chiaramente lo spessore è un po' diverso però insomma le dimensioni sono quelle di un passaporto e l'hanno chiamato Passport tant'è che lo smartphone nuovo di BlackBerry è alto 128, largo 90,3 e ha uno spessore di 9,3 mm nello spessore si nota oltre ai tasti funzione quindi bilanciere del volume, tasto di action che permette di attivare alcune funzioni porta micro USB nella parte inferiore niente, l'anima in metallo, qua si nota semplicemente la scocca che è fatta in alluminio e quindi è rinforzata jack da 3,5 mm e tasti di accensione e spegnimento ecco questa è la parte fisica di questo smartphone che dicevamo è coraggioso e innovativo altre caratteristiche tecniche giusto per poi adentrarci un po' più nella parte del sistema operativo il display da 4,5 pollici ha una risoluzione di 1400x1440 pixel con una densità di circa 453ppi ovvero di fatto è un quadrato, è un quadrotto ancora il display è di tipo LCD IPS quindi come notate ha un elevatissimo angolo di visualizzazione grazie alla tecnologia IPS sotto al display il processore che anima questo super smartphone chiamiamolo così è il Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core quindi a 2,2 GHz quindi il passport è allineato diciamo in qualche modo agli smartphone di ultima generazione di Android e poi con Android c'è una parentiera, la spiegheremo anche dopo il processore Snapdragon 801 è sito da 3 GB di RAM ci sono 32 GB di flash storage integrata e poi se ancora non vi basta è sufficiente eliminare la parte superiore del passport perché è una scocca unibody quindi l'unica parte che si elimina è questa parte superiore e noterete che c'è sia il vano per la microSD sia soprattutto il vano per la SIM che è in questo caso in formato nano quindi dovrete verosimilmente cambiare SIM se già non l'avete dall'iPhone o da qualche altro telefono che utilizza la nano SIM rimettendo a posto l'oggetto il telefono li torna a funzionare non l'ho neanche rotto quindi sono stato bravissimo ve lo sto facendo vedere in anteprima me l'hanno appena dato qui a Londra dopo l'evento BlackBerry abbiamo avuto l'opportunità agli invitati di toccare con mano e di fare un po' proprio questo smartphone per capire le potenzialità che sono fondamentalmente virate sulla parte professional BlackBerry da tempo si è concentrato nella sua attività sulle esigenze degli utenti aziendali professionisti tant'è vero che questo smartphone è totalmente virato alla parte produttiva da produttività e mobilità BlackBerry non è più come era una volta solo un sistema o non più è un sistema di esclusivamente di spedizione della posta elettronica quindi non è più solo un postino elettronico ma è un vero e proprio strumento di mobile computing ovvero di produttività come accennavo prima in mobilità e quindi la mail è il pretesto per offrire tutta una serie di funzioni che adesso andremo a esplorare anche per questo c'è la tastiera che è sintomatico di uno smartphone dedicato ai professionisti a chi non vuole enunciare la massima ergonomia di scrittura non per questo non può essere uno smartphone multimediale anzi tutt'altro il player audio video è di ottima fattura tant'è che riproduce video in full HD e collegando alla porta USB una presa MHL quindi con porta HDMI si può connettere lo smartphone al televisore e si riproducono video in full HD in maniera perfetta e non solo la parte multimediale si basa anche sulla fotocamera a 13 megapixel posteriore che permette di girare video a 1080p a 60fps quindi con una fluidità maggiore rispetto al tradizionale 30fps e soprattutto permette di avere una qualità di visuale nettamente superiore sui televisori moderni che permettono proprio di sfruttare al massimo questo tipo di registrazione c'è ovviamente la fotocamera anteriore di 2 megapixel ma quello che vi voglio ancora dire prima di dedicarmi alla parte software è questa la batteria innanzitutto è da 3450 mAh BlackBerry addirittura nelle specifiche sostiene che permette di fare il talk time quindi l'utilizzo in modalità telefonica è pari a 24 ore in connesso alla rete UMTS ed è addirittura di circa 12 ore di riproduzione di contenuti multimediali quindi 3450 mAh promettono un'autonomia eccellente non solo il dispositivo è connesso si può connettere alle reti 3G e 4G quindi LTE fino a 150 mps di download ove è possibile 50 mps in upload ove è possibile e infine sempre rimanendo sulla parte telefonica il Passport ha 4 microfoni cioè chiaramente quello per parlare ma ne ha una serie di altri distribuiti sulla scocca tra cui uno proprio all'interno della capsula vericolare per garantire la migliore qualità vocale mentre si è in conversazione i 4 microfoni cosa servono? per eliminare, ridurre quanto meno più possibile il rumore di fondo e garantire al nostro interlocutore la migliore ricezione della nostra voce ok e questo è l'hardware c'è tutta la parte software tutta la parte software che si basa su BlackBerry OS 10.3 la nuova incarnazione di BlackBerry OS 10 allora rimangono invariate alcune caratteristiche ovvero l'Hub il BlackBerry Hub il BlackBerry Hub è quello che abbiamo imparato a conoscere nei BlackBerry basati su BlackBerry OS 10 è il centro di controllo di tutte le attività di messaggistica quindi ingloba in un'unica in un'unica pannello tutti i messaggi che ricevete dai social network dalle mail da Whatsapp da BBM dalle chat da chiunque da LinkedIn in questo caso anche da qualunque tipo di messaggio che ricevete è raggruppato in questo pannello che come vi ho detto potete scorrere anche attraverso la tastiera il display da 4 pollici 4,5 pollici in formato rettangolare è ottimizzato per massimizzare la visualizzazione dell'Hub tant'è vero che la visuale sembra quella di un computer in miniatura e questo ulteriore conferma sia per esempio aprendo un documento Excel vi faccio notare la differenza rispetto a uno smartphone tradizionale con display in 169 questo è un display in 4 terzi ebbene quello che si nota è scusate in display quadrato quello che si nota questo è 169 quello che si nota è la maggior numero di informazioni che si possono visualizzare ovvero il Blackberry Passport visualizza un maggior numero di colonne e un maggior numero di righe rispetto a questo display tradizionale chiamiamolo in questo modo e notare che per esempio il Blackberry Passport sta visualizzando il documento su un suo reader quindi su un suo office e questo l'OS 5 sta visualizzando con office mobile quindi ancora una volta a maggior ragione l'area maggiore o comunque il display si è fatto in maniera rettangolare con una maggiore dimensione laterale permette di visualizzare meglio i documenti ma non solo anche ovviamente anche le mail notate che per muovermi questa è per esempio una mail la leggete perfettamente notate che per muovermi io sto utilizzando una serie di gesture ecco le gesture che erano la peculiarità di Blackberry l'OS 10 nelle precedenti versioni da 10 10.1 10.2 sono rimasti e sono stati ulteriormente amplificati perché notate anche grazie al processore la fluidità di un movimento all'interno dei menu nonostante siano aperte varie applicazioni questo è il multitasking questo l'abbiamo già visto l'abbiamo già imparato sui vecchi modelli di Blackberry ecco il multitasking è stato ulteriormente perfezionato in questo caso grazie al design del display può ospitare fino a 6 collegamenti non solo le applicazioni che rimangono qui che sono quelle che avete utilizzato di recente continuano a funzionare quindi per esempio prima ho aperto ecco qui un altro elemento di novità l'amazon app store app shop che va a sommarsi a Blackberry world cioè le app di Blackberry oltre alle app di Blackberry si possono installare quelle dell'amazon app shop che di fatto sono app per android perché amazon le mette a disposizione per tutti i telefoni android ed è lo store di applicazioni di serie sui kindle fire cioè sui tablet android di amazon ecco in questo caso grazie a Blackberry OS 10.3 potete installare applicazioni anche da questo store che è installato di serie nel sistema operativo e quindi avete un maggior numero di app a disposizione magari mancano tutte quelle che non sono presenti ancora e se mai saranno presenti nel Blackberry world le potete trovare all'interno dell'app store io ho installato alcune semplici applicazioni giusto per fare una prova tipo skype ma era già presente anche di là la grammatica italiana che è un che è un dizionario Rai TV a QED insomma un po' le installate funzionano perfettamente sono in emulazione ma la qualità è perfetta ok come notate quando io chiudo l'applicazione faccio un gesto dal basso verso l'alto questo in questo facendo questo tipo di operazione metto in multitasking l'applicazione quindi la lascio riparcheggiata fondamentalmente l'applicazione continua a funzionare come è successo a LinkedIn io avevo aperto LinkedIn ma non avevo ancora finito di caricare l'applicazione o il meteo e adesso che la riapro la trovo caricata tra queste applicazioni notate due vabbè queste sono le impostazioni sono aumentate come numero però di fatto sono le stesse che avete già visto sugli altri BlackBerry in questo caso la sim che sto utilizzando è una sim di prova che mi hanno dato per provare lo smartphone quello che è arrivato una mail nel frattempo come vedete proprio la mail è la parte fondamentale la messaggistica vi aiuta sempre a capire cosa sta succedendo all'interno del sistema e quando ci viene un messaggio si appaiono le notifiche le funzioni in questo caso sono tutte virate sulla parte personale nonostante questo sia un telefono professionale non sono connesso alla piattaforma BlackBerry sono connesso alla piattaforma classica quindi di mail quindi manca tutta quella parte gestione delle informazioni aziendali ovvero BlackBerry permette di separare quelli che sono i dati aziendali da quelli personali quindi tutto quello che verrà ospitato e che sarà sui server aziendali risiederà quando sarete connessi se lo connetterete alla piattaforma BlackBerry in un'area privata e le due aree non sono in commistione quindi i dati rimangono separati e per accedere alle due aree soprattutto a quella aziendale dovete digitare una password dedicata e in quel caso oltretutto i dati saranno crittografati quindi non c'è possibilità che ci sia confusione fra la vostra sfera professionale e quella aziendale tant'è vero che potete eventualmente la sera spegnere quella aziendale e continuare ad utilizzare il telefono per i vostri dati personali altre novità di BlackBerry l'assistente questa è una delle novità principali di BlackBerry vi permette di dialogare vocalmente questo l'abbiamo già visto in realtà l'assistente vi permette di fare molto di più perché oltre a dare comandi vocali permette di colloquiare sulla fastidio quello che per esempio fa Siri con iOS e Android con sistema di comando vocale di Google ecco qua potete dire che ne so mandate un messaggio fate una chiamata mandate un tweet oppure semplicemente chiedere le partite le risultate delle partite una serie di informazioni che però vanno la differenza che si integrano perfettamente con quello che è BlackBerry Hub e con quelle che sono le source BlackBerry anche di cartografia con BlackBerry mappe e con tutte le informazioni che gravitano intorno al BlackBerry Hub questo è il fulcro è il ragionamento di base dell'assistant è un sistema vocale per interagire con tutte le informazioni di BlackBerry partendo da questo pannello l'ho ridetto perché non vorrei ci fossero confusioni oltre a essere un sistema vocale è un metodo per semplificare l'accesso alle informazioni di BlackBerry loro tendono BlackBerry tende a sottolineare questa differenza perché proprio sull'hub si basa la loro diversità rispetto al sistema operativo e quindi il fatto di dire che l'assistant è fortemente interconnesso con l'hub è un punto di forza del sistema operativo perché vuol dire che ancora una volta la messaggistica la produttività personale rientrano in tutto quello che sono le funzioni offerte a BlackBerry Passport oltre all'assistant l'altra novità che qui purtroppo non vi posso far vedere perché non è ancora disponibile è il Blend Blend è questa piattaforma che permette di installare l'app Blend gratuita su PC Mac smartphone e tablet Android e iOS cosa vi permette di fare? vi permette di controllare da quei dispositivi che vi ho elencato il vostro BlackBerry quindi una volta installata l'app sullo smartphone S5 sull'iPhone sull'iPad o su un tablet Nexus o su un PC remoto qualunque sistema vogliate utilizzare con Blend potete accedere a tutte le informazioni che sono sul Passport quindi al BlackBerry Hub alle mail al calendario ai contatti a tutto quello che avete configurato sul vostro Passport non solo li potete anche utilizzare in remoto quindi dallo smartphone Android dal tablet iOS o dal Mac mandando una mail la mail rimarrà memorizzata su BlackBerry perché di fatto voi state utilizzando in remoto le funzioni presenti su BlackBerry Passport quindi non è semplicemente una connessione per accedere ai dati ma è un vero e proprio utilizzo in remoto dello smartphone quindi per esempio quando vi dimenticate vi dimenticherete il Passport in ufficio o a casa ecco con un PC o con un tablet utilizzerete allo stesso purché il Passport sia connesso chiaramente a una rete LTE o Wi-Fi comunque a banda larga è consigliato ecco in quel caso con la connessione internet potete accedere in remoto alle risorse del BlackBerry e utilizzarle come se avesse di fatto in mano i BlackBerry le altre serie da touch come ho già detto le gesture le avete notate ce ne sono tante dall'alto verso il basso aprite il menu contestuale dal basso verso l'alto si crea e si mettono in stand by le applicazioni oppure si guarda un'occhiata all'hub per vedere se per caso è arrivato qualche messaggio nel frattempo vedere quelli che sono arrivati se non c'è niente che vi interessa ritornate a quello che state facendo le gesture sono la base principale di BlackBerry OS e rimangono una delle caratteristiche fondamentali di Passport che arriverà in Italia nei prossimi mesi insomma ci sono detto che arriva per autunno arriverà probabilmente tramite operatorio per la sua vocazione professionale quello che di certo è che l'originalità di questo strumento si apprezza soprattutto nel momento in cui si messaggia rispondono a me scrivere un pezzo un articolo insomma utilizzare la messaggistica con la tastiera che è comoda e con questo tipo di sistema operativo è perfetto la vocazione è proprio la natura fondante di Passport è la forte integrazione con qualunque sia il sistema di messaggistica da Skype alle chat alle mail lo ripeto perché se la vostra esigenza è quella di essere produttivi di mobilità e quindi utilizzare uno strumento affidabile che dura tanto perché l'autonomia è uno dei punti di forza e con questo display che è studiato appositamente per garantire la miglior visuale proprio in termini di fruizione dei contenuti scritti ebbene Passport è uno smartphone che quando arriverà ai negozi vi consiglio di andare a vedere non fosato per l'originalità può piacere o per non piacere questo poi lo sceglierete voi però è un concetto originale è un concetto che mira a integrare il touchscreen e la tastiera in un formato diverso in un formato per professionisti per chi non vuole rinunciare alla migliore visualizzazione possibile dei propri documenti dei propri email dei propri messaggi o anche mobilità direi che per questo primo contatto abbiamo detto tutto poi vi rimanderò una serie di altri video non appena saranno disponibili e faremo anche una serie di confronti magari con una serie di smartphone dedicati ai professionisti che quindi vanno un po' a essere dei concorrenti di Passport per questo primo contatto è tutto e vi saluto da Londra vado a godermi un buon fish and chips da qualche parte e vi saluto e vi rimando a presto sul nostro canale youtube sul canale youtube di Giovanni Magazine per altri nuovi video non solo su blend ma su tutti gli smartphone che arriveranno nel prossimo futuro grazie e presto ciao